Ben ragazzi, sono DiDiavel e bentornati sul canale di MelagodoArmy Oggi ci sono ancora io a tenervi compagnia grazie appunto al sostegno che mi avete dato nel video precedente a questo Se volete altri episodi di questa serie sapete cosa fare appunto, ovvero lasciarmi un mi piace ed un commento sotto questo video qua Prima di incominciare volevo ringraziare ancora lo staff di Melagodo per questa altra grande occasione di farmi conoscere a voi popolo di Youtube Che dire, incominciamo subito, oggi vi ho portato altri 6 giocatori molto buoni ma soprattutto economici e baggati Ho cercato di fare molta varietà come avete consigliato voi appunto nei commenti sotto il video precedente Tra i giocatori di fare molta varietà sia per la qualità che può essere bronzo, oro o argento e anche per il ruolo Che dire, partiamo subito con il primo che è Riascos ragazzi, Riascos è un giocatore colombiano, attaccante, milita nel campionato messicano È un giocatore molto veloce con un tiro da baggatissimo, con un colpo di testa sensazionale ragazzi Con un'elevazione veramente micidiale, con una clip che segue vi posso dimostrare quanto sia bravo questo giocatore nel saltare Veramente ha un'elevazione straordinaria, un tiro soprattutto molto baggato e di precisione allo stato puro ragazzi Il dribbling non mi è piaciuto molto però comunque ha 4 stelle di skills quindi potete benissimo vedervela voi Come adattarvi chiaramente, potete farci benissimo le mosse abilità e smarcarvi dall'avversario Io consiglio più che altro di farlo correre e tirare anche da fuori dall'aria tranquillamente Il prossimo giocatore ragazzi è Victor Ibarbo Un giocatore che mi avete consigliato in molti di voi appunto sotto nei commenti del video precedente Un giocatore molto veloce, alto soprattutto Secondo me lui e Abumayang sono forti perché sono alti e veloci Ha un grande dribbling, lui ha un colpo di testa e un tiro molto buoni ragazzi Nel clip che segue vi faccio vedere un grande smarcaggio Cioè un grande passaggio a smarcare appunto dove lui si è vato a trovare al momento giusto È al tempo giusto appunto e ha subito spiazzato il portiere con un grande tiro da fuori dall'aria Il prossimo giocatore ragazzi è Derrick Urtado Il giocatore statunitense che gioca nella Liga MLS Un giocatore veramente molto molto forte di qualità bronzo Con un tiro e un'accelerazione veramente molto molto buggata È molto forte questo giocatore qua, ha un grande dribbling purtroppo ha 3 stelle skills Che quindi non mi permettono di fare molte mosse abilità Però come vi faccio vedere ha un grande dribbling Un buon tiro comunque dalla distanza Soprattutto una grande accelerazione Quindi potete più che altro centrarvi e provare il tiro da fuori Il prossimo giocatore ragazzi è Rajan Naingolan Il giocatore del momento Un grande rubo a palloni ma soprattutto un grande regista ragazzi Secondo me è il migliore centrocampista in Serie A Dalla clip che seguo vi faccio vedere come sia forte questo giocatore qua Sia nel skillare che nel tirare Nel dribbling appunto, nel passaggio Veramente è qualcosa di sensazionale ragazzi questo giocatore qua A me piace tantissimo Ve lo consiglio come coppia con Pogba e Vidal Veramente per un centrocampo sensazionale Ma vi consiglio appunto di usarlo più che altro per rubare i palloni e lanciare le vostre attaccanti Che se mettete appunto i barbo che è molto veloce E rimanetevi sicuro soddisfatti Il prossimo giocatore è Zuma ragazzi Giocatore francese che gioca nel Saint Etienne Difensore centrale Un giocatore molto bagato che credo molti di voi conosceranno Con una grande velocità Un buon colpo di testa E soprattutto una buona difesa Purtroppo non sono riuscito a portarvi tante clip Soltanto questa qua dove appunto riesce a intercettare due palloni Il prossimo giocatore ed ultimo per oggi Ma non per potenza appunto È il portiere dell'udinese Brick O come si può pronunciare Non lo so ragazzi Questo potere qua Pur non sembrando un grande portiere Ragazzi è molto bagato Quindi ve lo consiglio Il prezzo è veramente inferiore Il giocatore che costa di meno Nel appunto Che vi propongo oggi Con soltanto 400 crediti Ragazzi Per un giocatore è veramente molto molto buono Per oggi è tutto ragazzi Io vi ringrazio per avermi seguito In questo video qua Spero di non avervi annoiato E spero di esservi stato d'aiuto Quindi lasciate un mi piace E un commento Per potermi dare la possibilità Di continuare questa serie Su questo canale qua ragazzi Ve volevo anche chiedervi Se volete Scrivertemi in un commento Un giocatore O un determinato campionato Che vorreste vedere Nel prossimo episodio Ragazzi Che mi faccio un attimo due idee Per portarvelo Volevo anche dirvi Se volete Scrivertemi in un commento Una critica Speriamo costruttiva Cioè un consiglio Su come migliorare i video Leggerò tutti Risponderò a tutti Perché comunque è una cosa Che mi fa veramente molto piacere Rispondere a tutti i messaggi E nulla Volevo anche dirvi Che in descrizione Trovate il link del mio canale Se volete passare A darci un'occhiata Mi fareste veramente molto contento Niente Da Rediavele Era tutto Noi ci sentiamo Nel prossimo video Ciao ciao